Virtuale e reale, binomio perfetto messo a punto da Guidi Go, l'app che con l'utilizzo dei Google Glass permetterà di effettuare dei tour virtuali all'interno degli istituti museali e culturali che aderiscono all'iniziativa. Una narrazione multidimensionale in grado di far vivere al visitatore un incontro inedito con l'opera d'arte. Basterà infatti pronunciare la frase inizia il tour per dare modo al software di identificare l'opera e ricevere informazioni e curiosità ma anche brevi filmati e mappe per muoversi più facilmente all'interno della struttura. E ancora la possibilità di zoomare e mettere meglio a fuoco alcuni dettagli che a un occhio inesperto potrebbero sfuggire. Le opportunità di interazione offerte da Guidi Go sono molte. Attraverso la nostra piattaforma, spiega Damian Stankovic, responsabile user experience dell'app, ogni sito museale e culturale può ora facilmente pubblicare i propri contenuti che vengono ottimizzati per i Glass. Al momento sono più di 200 i tour messi a disposizione da Guidi Go che consentirà ai musei di poter offrire in prestito i Google Glass ai propri clienti oppure una visita gratuita a coloro che hanno già gli occhiali.